E bella a tutti quanti ragazzi, la recensione Rabona subitissimo ragazzi serve offline, praticamente non va internet assurdissimo Le chiamate vanno ma internet non va, non si sa specificamente cosa sia successo Avevo fatto una recensione qualche giorno fa che comunque stava andando e tutto quanto Perché avevo visto che comunque c'erano dei commenti dove dicevano che non funzionava Attualmente ho provato, ok, a mettere la sim Rabona Cioè io ho due sim, ok, ho messo la sim Rabona e ho provato ad andare su internet Su internet non va e le chiamate vanno Quindi non so cosa sia successo specificatamente Però comunque se vi state domandando perché non va, anche a me non va Quindi non so precisamente cosa sia successo Però vi lascio il mio link d'invito su HMO Mobile Che comunque ha un costo veramente basso, ok, dovrebbe essere 5,99 euro passando da un operatore virtuale, ok 75 minuti sms illimitati E in più avete 5 euro anche in omaggio con il link che vi darò io Ovviamente se passate da un operatore Come si dice, tipo team, wind e roba così Ovviamente è un'altra cosa Perché la riceviamo mi sembra 5 euro a testa Se passate da un operatore virtuale ne ricevo 10 Quindi vi ringrazio Però comunque in ogni caso stiamo parlando di Rabona E Rabona non funziona Non so perché Se volete provare ad aspettare ancora magari un giorno o due E vedere cosa succede Però io vi consiglio magari di incominciare già a informarmi per un nuovo offerto Di, una nuova offerta, un nuovo operatore E cambiare ovviamente Come si dice, numero Ecco, numero Gestore Passare a qualcos'altro Non vi consiglio magari la team Vodafone perché costano di più Vi consiglio magari a HMO Mobile Vi ricordo che c'è il link in descrizione Se volete passare Non so se comunque hanno chiuso per fallimento cosa sia successo Perché non so cosa sia successo E niente ragazzi Questo è tutto Bella ragazzi